Benvenuti ragazzi in un nuovo episodio di Terraria The Gameplayers. Io sono TheTorex96, insieme a me c'è la Calwing. Ecco, dopo quel fail di episodio abbiamo deciso di andarci seriamente, senza scherzare, evitando i pericoli, e ci siamo arrivati. Ma perché il cielo è così strano? Dicevo, siamo arrivati alla giungla, e quindi l'ipotesi era giusto, cioè che la giungla doveva essere per forza a destra. Ok, che c'è? Vieni qua giù. Oh, c'è una roba. Piano. 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 Vai. Hai torce. Undici. Aereo. Aspettami, 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 aspettami. Stiamo lavorando su voi. Leningo è pare. Leningo è pare. Ti stai, fermo. Sto creando le piattaforme. Oh, cos'è questo? Iron Skin. L'ho preso. L'ho preso. L'ho preso. Una Iron Skin Porsche. Fermo. Allora. Demonite. Come la prende? Foggià la torce. Oh, mio. Che cosa? Consigliere d'oro è mio. Ce ne sono tu accanto, perfetto. Io quella destra. Wow. Quella destra io quella sinistra. Quale vuoi, destra o sinistra? Decidi tu. Fleeting, Hermes, Boots. Qui invece un altro specchio di quelli magici. Che sfiga. Ok. Cos'hai ora? Ehm, 17 queste bombe. 5 pazioni. E' 11. Silver, Boots. Silver, Boots. Silver, Boots. Eh, prendi la ciascola. Ecco. Sto facendo io. E' anche la tua, per favore. Prendi, però ci sono delle cacchiate dentro. Ok, questa grotta è troppo buia. Prendi... Fermo. Buono, buono, buono. Ancora devo prendere la rosa. Ok. Sembra un quartiere a luci rossa. Mi aspetti. Quello già arriva. Però c'è, non puoi stare qui. Oh, un orne? Un orne? Avete appena visto una... Vespa. Una Vespa gigante. Boh. Allora. Pronto? Metti qualche torcia. No. Sto svuotando le cose che ho. Dai, non si può vedere tutto a buio. Vieni. Fermo. Ok, lì, una nuova specie di mostro. Morin di te pare. Comunque, stavo dicendo. Quei cosi danno degli oggetti, chiamati Vines, usati per fare un rampino abbastanza carino. Grazie, ma noi non abbiamo quello normale. Porca. Sono un bel po'. Ottima idea. Vai, 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 vai. Uno è morto. Vado giù. Sono un tre. Sì. Quattro. Non è me. Vai. Che mira bellissima. Così si può. Quanto si può mirare con le bombe. Uccidilo, ti metto la torcia. È là sotto. Ok, l'ho chiuso. Mi siete bisogno di andare di qua. Torcia. Hornet. Urca, urca. Piano. Fermo. Stai qua e fai quello che faccio io. Capito? Perché il Valtor è l'unica è l'arma che attraversa i muri, come puoi ben vedere. Infatti. Qua, stay calm, stay clear. Cos'è c'è qua sotto? Il problema è che la luce non passa attraverso i Vines. Allora, là sotto c'è qualcosa che... Mi sono avventurato. Jungle force. Bravo, bravo. Prendile. E qua c'è una taverna. Sono sicuro. Sì, ma si vede. Rompi. Ok. Qui su... Finisce. Silver, mi sembra che sia questo qua su. Lo prendiamo per tornarci a utilizzare mai. Silver, ormai no. Noi siamo qui per trovare materiali della giungla. Per esempio, questi rarissimi, rarissimi jungle force. No, però non è che c'è così tanto rarità. Vabbè, non per la rarezza ma per l'utilità che ha. Mi sa che la luce c'è un altro. Sì, comunque rarità ho detto rarità, fai. Oh, cucù. Ok. Con il potere del Barcellona. Sti players c'è. Il cimitero. Fail. Il cimitero dei Tails, bella questa. Sì. Oh, 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 oh. Ho rinduto i pade ma non nella mia serie. Piano. Ok. Conta di tali? Abbastanza. Jungle force. Piano. Fermo. Ho detto che bisogna andare piano. Vai, vai, prendi, prendi che io intanto penso a loro. Astri due jungle force. Non so qua ma riesco a spararli. Aspetta. Ok. C'è ancora quello da ammazzare. Sai che ammazzate. Ok. Ma devo mettere una torcia o no, vero? A che servono gli Hermes boots? Se vuoi dai a me, guarda. No. Oro. Questo è oro? Sì. Ok. Eh, là c'è un'altra spola. Questo lo prendo io, dai. Allora, dai, dai. Tu dovresti scavare con le bombe. Scendiamo con le bombe. No, no. Dov'è a prendere quella cosa là su, la vedi? Sì, la vedo. Che qua giù intanto troppo un'altra cosa. Puoi mettere la torcia qui che non si vede niente? Tu non ne hai? No. Tu quante ne hai? 23. Eh, dammene un po'. No, fermo, 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 fermo. Non bucare quell'acqua. Io invece voglio levare l'acqua da lì. Quindi via l'acqua di qui. Nolle, qua c'è un'altra grotta. C'hai condannati. Mi sembra giocare a piragna panic. Panic? No, com'è? Sai che sembra qualcos'altro, Panic? Sì. Allora. Prendiamo i nostri Fiat Starfighter e andiamo sott'acqua. Perché ho sparato col fucile? Via. E infatti... Qualcuno ha ordinato una Vespa sott'acqua? Il cristallo del cuore. Questo è mio. Ok, prossimo è mio, allora. Ok. Voglio usare una bomba. Aspetta, però devo andarla a prendere con calma questo di qua, perché... è un'altra grotta. Qua c'è un'altra grotta. Se il prese ti interessa, però io intanto dovrei cercare di... ecco. un respiro. Un respiro. E' un respiro. Un respiro. A breve faremo una nuova serie su Need for Speed, che è Underground 2, che è il mio preferito, secondo me è il migliore di questi nuovi che stanno scendo ottimamente. Di conseguenza, tra qualche giorno inizierò, cioè filmerò il primo episodio e... e boh. Così è la... Beh, mi hai trovato qualcosa a destra. Uh! No, questo è il mio! Eh, oh, su City of Cy, su City of Cy, 24 Star Fighters. Cheat, son buono. Qua! Ti trovato? Allora, un altro Hermete Boots. Edda là a me questo. Ehm... Facciamo col... Perfetto, come ho detto prima. Tieni quello che avevo... Un gol. Ehm... Questo me lo tengo. Questi... Li metto qui, questi qui... Eh, ciao. Lo screen lo lascio in un po'. Tieni il Hermete Boots. Hai preso? Sì. Ok. La prossima di che? Eh, la prossima è... Vabbè, mi... Te l'ho data a te. Va bene. Allora, chi va a sinistra e chi va a destra? A destra c'è una grotta. A sinistra c'è... Che ho trovato? Another grift. No, grift. Ah, grift. Comunque, mentre tu litighi con l'inglese... Ehm... Ehm... Io vado verso... Destra. Per giunta. Oh... 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 Ne avevamo già prontata una. Non in questa serie. Quindi... Sarà una cosa inutile perché noi non siamo a casa. Comunque spieghiamo in poche parole che vuol dire. Cosa vuol dire che la luna di sangue sta sorgendo. Praticamente con la luna di sangue permette agli zombie e anche agli altri mob di aprire le porte. Di conseguenza è una cosa un po' difficile all'inizio ma non molto pericolosa quando si ha una smatura come la nostra, per esempio. Ascoltami un istante. Bisognerebbe andare a sinistra perché ce n'è un altro di questi cosetti e siccome la spada ne richiede venti... One second. Comunque, per questo episodio è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao da Torex96 e da... Glacial Wing!